Il personale del 118 di Santa Maria di Castellabate con un'ambulanza dell'Europa San Leonardo nel pomeriggio di mercoledì stava prestando un intervento per un arresto cardiaco in abitazione. Il personale aveva lasciato l'ambulanza a 20 metri dalla casa perché non riusciva a passare in un vicolo. Mentre tutti erano intenti ad animare il quarantenne, un vacanziere è salito sul mezzo ed ha provato a farlo passare nel vicolo. Tentativo assurdo ed infatti l'ambulanza ha riportato danni ingenti per oltre 1000 euro su tutto lo sportello. Nel mentre il personale impegnato a rianimare l'uomo ha dovuto chiedere l'intervento di una seconda ambulanza rianimativa di Agropoli per trasportare il paziente all'ospedale di Vallo della Lucania. Sono stati attimi di apprezzione, per fortuna edegente è stato stabilizzato. Il vacanziere invece è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che dopo le informazioni del caso lo hanno bloccato ed identificato. Grazie a tutti.